Superati oggi 60.000 contagi in Abruzzo. E' questo il dato più rilevante del bollettino epidemiologico di oggi, domenica 14 marzo. Tra 123 nuovi casi positivi di età compresa tra i due mesi e i 100 anni, 87 ciascuno nelle province dell'Aquila e di Chieti, 27 in provincia di Pescara, dato in calo, mentre in crescita il numero dei nuovi casi nel Terramano sono 113 nelle ultime 24 ore. Completa il quadro, il numero dei residenti fuori regione con residenza in accertamento 9. Il totale dei positivi in Abruzzo dall'inizio della pandemia è pertanto di 60.089. Sono stati eseguiti nelle ultime 24 ore 4.393 tamponi molecolari e 4.487 antigenici per un totale di 8.880 test. E' tornato a calare il tasso di positività sceso al 3,6%. Sette i pazienti deceduti nelle ultime 24 ore, di cui uno risalente ai giorni scorsi è comunicato solo oggi dalle ASL, che portano il totale a 1.901 vittime. Aumenta il numero dei guariti, che oggi sono 45.347 più 112 in 24 ore, mentre il numero degli attualmente positivi, cresciuto di 204 unità, ammonta a 12.840. Cresce però la preoccupazione per la pressione sugli ospedali. 673 sono ad oggi ricoverati in area medica, più 24 rispetto a ieri, 93 quelli in terapia intensiva, meno uno, mentre tutti gli altri contagiati, 12.074, sono in isolamento domiciliare, 181 in più nelle ultime 24 ore.